Non c'è pace nemmeno a Natale per i vandali a Fano. Per nulla pervasi dallo spirito natalizio la scorsa notte hanno pensato bene di arrampicarsi su un bidone per la raccolta del vetro in piazza Costanzi all'incrocio con via Garibaldi e spezzare di netto il cavo della filodiffusione a danno di tutti i commercianti del luogo e del comune di Fano. Che si sia trattato di un atto vandalico mirato puro e semplice lo dice il fatto che null'altro è accaduto nella nottata né alle case né alle auto in sosta. Ci dispiace tantissimo perché oltre a metterci soldi noi commercianti metterci il tempo varie riunioni via dicendo le persone fanno questo purtroppo. Quindi un appello a maggior sensibilità e decoro anche della città di chi si impegna perché questa venga bella. Io spero che la gente si metta una mano nella coscienza capisca quello che stiamo cercando di fare proprio per animare il centro e che non succedano più queste cose. Già una mano sulla coscienza non guasterebbe in modo che l'altra mano non la mettono su altre cose tipo le installazioni della Proloco sparse per il centro come la splendida arenna del Bosco Incantato a grandezza naturale ribaltata e la grande testa lasciata a qualche metro di distanza. Una meta questa per tutti i bambini che vogliono farsi una foto d'atmosfera vicino a lei proprio per ricreare il giusto clima natalizio. Una sensazione che stentiamo a credere sia parte di queste persone che non perdono mai le migliori occasioni per dimostrare la loro pochezza.